C'è amiche, c'è amici, come farsi amare alla follia da un uomo? Allora, per farti amare alla follia da un uomo devi entrare nella sua triade originaria. Cosa significa questo? Significa che devi acquisire le caratteristiche fondamentali che aveva il genitore causa, diciamo così, dei primi turbamenti del maschio, che di fatto è la madre fondamentalmente. Ora, gli esseri umani hanno la paura dell'emulazione del mito genitoriale. In cosa consiste questa paura? Consiste nell'avere il timore di poter incontrare una donna, nel caso di un uomo, che abbia gli stessi vizi, difetti, ciò che noi abbiamo giudicato un vizio, un difetto comportamentale, nei genitori di sesso opposto, quindi nella madre in questo caso. Però questa paura anche attrae, perché di fatto poi andranno a innamorarsi di tutte, tenderanno a perdere la testa per persone che attraverso il comportamento andranno a ricalcare proprio questi vizi e questi difetti comportamentali. Quindi se ho avuto una madre ansiosa che quest'ansia mi ha fatto soffrire, ma mi ha fatto soffrire però mi ha generato, diciamo così, dell'emozione, a livello logico avrò paura di incontrare una donna che manifesti lo stesso tipo di ansia, ma poi mi innamorerò proprio di una donna che aveva questo tipo d'ansia. Se ho avuto una madre troppo eccessivamente possessiva, che mi ha, diciamo, inibito, mi ha condizionato in qualche modo, avrò molta paura di coinvolgermi con una persona di questo genere e sarà proprio questa persona però che mi farà coinvolgere. E ovviamente bisogna entrare, diciamo, sotto mentite spoglie. Inizialmente devo solo fare intendere che io potrei, una donna, diciamo, dovrebbe far intendere che potrebbe essere ansiosa, deve lanciargli un piccolo segnale, perché in questo modo aggancia la sua parte emotiva, se di ansia si tratta, se di possessività si tratta attraverso la possessività. E poi nel momento in cui c'è stato l'aggancio devo incrementare ancora di più questo. In questo modo lo faccio innamorare alla follia per quale motivo? Una donna, cioè, riesce a far innamorare un uomo alla follia perché acquisisce tutto il potenziale che a suo tempo la madre aveva nei suoi confronti. E quindi scatteranno dei meccanismi irrazionali per cui non perderà il controllo della ragione, perché amare alla follia significa perdere il controllo della ragione. Quindi, se vuoi far innamorare un uomo alla follia, devi capire quali sono state le sue esigenze, quali sono stati i suoi turbamenti, qual è stato il rapporto, che tipo di rapporto aveva con la madre, fondamentalmente. E le cose che più disprezzavano la madre sono quelle che lo coinvolgono di più, paradossalmente. È ovvio che vanno somministrate gradualmente. In questo modo riuscirai a fargli perdere la testa. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!